Bentornati su GetLatestVersionPills Con questa pillola vorrei mostrarvi un particolare approccio alla gestione di progetti o parte di essi sfruttando le wiki di Azure DevOps Immaginiamo ora di dover gestire un progetto strutturato e di dimensioni importanti Uno di quei progetti per i quali servirà una sottivisione del lavoro in tanti work item, in una gerarchia ad esempio a tre livelli Ora, immaginiamo di trovarci nel momento in cui ancora non sappiamo quali saranno gli elementi di lavoro E in cui manca ancora una visione concreta sul risultato che si vuole ottenere Ricordiamo che stiamo ancora facendo brainstorming e raccogliendo idee e requisiti Creare epiche, seppure generiche, è prematuro e anche la fase di story mapping sembra ancora lontana Il rischio principale è quello di incappare in correzioni continue sulla raccolta e sull'organizzazione del lavoro Inoltre, vi è anche una componente di scomodità da non sottovalutare sull'inserimento dei requisiti direttamente sui work item Perché quindi non sfruttare la wiki? Può risultare uno strumento molto potente Ma vediamo ora come con un semplice esempio Come prima cosa, una volta che abbiamo creato un progetto, alla voce wiki non avremo alcuna wiki disponibile È sufficiente seguire le indicazioni con i pulsanti che compaiono per andare a crearne una Premendo create project wiki otterremo la nostra prima pagina in modifica che potremo chiamare ad esempio progetti Con un save e un close avremo la nostra home page della nostra wiki Faccio notare che per ogni progetto è possibile creare più di una wiki ed editarla direttamente da Visual Studio Code o altri editor simili E in più vi è anche la possibilità di accedere al repository git che sta dietro appunto a questa struttura A partire da questa home page chiamata progetti appunto perché dovrebbe contenere la lista dei progetti che andremo a scomporre Possiamo andare a creare delle subpage semplicemente cliccando sull'opzione add subpage all'interno di ogni pagina Questo non fa altro che creare una nuova pagina in un nuovo livello Nella quale possiamo andare a fare tutte le modifiche che vogliamo Immaginiamo di voler gestire un progetto che è la gestione di una dashboard utente All'interno della nostra wiki possiamo andare a salvare del contenuto markdown Ho preparato già una struttura piuttosto semplice E noterete che sono stati fatti due paragrafi Un introduttivo, la principale intestazione E poi uno di appunti all'interno del quale c'è una semplice to-do list Salviamo e chiudiamo E avremo appunto sotto la nostra home page una subpage con all'interno della nostra to-do list Niente di più, perché non sappiamo ancora come dividere il lavoro Abbiamo semplicemente scritto quelli che sono i punti salienti per muoverci all'interno di questo progetto Ora, una delle funzionalità molto interessanti della wiki è quella di integrare la creazione di work item sul backlog Ad esempio possiamo andare a selezionare un po' di testo e andare a generare un work item Per esempio questo testo gestire una dashboard Selezionandolo apparirà un menu di un work item e da questo possiamo andare a creare un'epica Ovviamente il risultato è l'apertura in edit di una nuova epica Che prende semplicemente il testo, lo coppia nel titolo e nella descrizione Ma ora possiamo fare tutto quello che vogliamo sulla base del nostro process template Quindi possiamo andare a modificare anche il contenuto della stessa Salviamo appunto la epica Che cosa succede? Oltre ad aver creato l'item viene segnato un segnaposto Che corrisponde in fase di render, quindi in fase di presentazione della wiki A questo badge, possiamo chiamarlo Dove c'è il tipo dell'elemento, il link e l'id all'elemento e il suo stato Ora, non sempre si vuole andare a fare un replace di un testo che era già leggibile con questo elemento Però possiamo tuttavia, siccome l'abbiamo creato, semplicemente rimettere a posto il testo come prima E magari allegare soltanto l'id, tra parentesi, in uno spazio dedicato nella wiki Ecco, facendo questo semplice copia e incolla otterremo questo layout Molto più comprensibile e più corretto È anche possibile andare a creare elementi su più linee di testo Su anche contenuti abbastanza complessi Tuttavia, quello che si ottiene è in realtà un formato completamente errato Per niente comodo Quindi forse da questo punto di vista Può essere usato soltanto come strumento di accesso all'epica in questo caso Quindi magari copiare il contenuto in maniera manuale con un bel copy e incolla Fare un nuovo work item solo in un secondo momento Mettere un nome all'epica e poi incollare quello che abbiamo copiato dalla wiki Ecco, in questo caso Questa cosa è stata creata nel backlog Ma la wiki è rimasta così Come abbiamo fatto prima Alla fine di tutto Potremo andare in edit alla wiki E andare a dire che la to-do list è presente nell'epica E qui ci mettiamo il nostro id corretto Ora, questo è un modo di cominciare a raccogliere All'interno anche di epiche Quindi stiamo cominciando a produrre un backlog Sulla base degli appunti che abbiamo preso sulla wiki Ma questo non è tutto Perché intanto la prima pagina che andiamo a creare Può essere usata semplicemente come appunti E pian piano può essere distrutta Quando non ci servirà più Poi, però, che cosa abbiamo anche? Abbiamo un'area estremamente potente delle discussioni Centralizzate su questa wiki In cui chiunque può lasciare il suo commento Sempre utilizzando Markdown Quindi tenere traccia delle discussioni Che sono legate a questa wiki In più abbiamo anche un trick che consiglierei Che possiamo utilizzare Come avremmo fatto per un qualunque documento La creazione di una tabellina delle versioni Lo diciamo che è la nostra versione 1.0 Fatta da me con una menzione Vedete, potete menzionare l'utente per avere informazioni di contatto Il 5 maggio, che è la data di oggi Aggiunti i legami con i work item Ecco, in questo modo Noi riusciamo a tenere centralizzato Tutto l'edit Della nostra Quella che possiamo chiamare big picture Quindi il nostro progetto Gestione dashboard utente È corredato di una tabella delle versioni Una piccola introduzione L'elenco della to-do list che avevo creato qua sopra È andato semplicemente a creare un'epica Che contiene questa to-do list E in più posso corredarla con alcuni commenti Giusto per dire qualcosa di negativo Come abbiamo visto all'interno di questa wiki abbiamo messo un po' di risorse in maniera randomica Ma è possibile anche andare ad aggiungere, oltre ai soliti link e frammenti di codice Anche dei diagrammi MERMED I cui dettagli, se volete approfondire, sono nel link in descrizione che vi ho lasciato sotto il video Ma vi è anche la possibilità di aggiungere table of content, video, addirittura query result Ed è su questo che mi voglio concentrare Ritornando sulla sub page che avevamo creato per gli appunti del nostro progetto Ci ricorderemo che abbiamo creato di recente una epica to-do list Al cui interno abbiamo l'elenco dei punti salienti da discutere Immaginiamo a questo punto di aver creato, magari utilizzando le tecniche che vi ho detto prima Le feature per ognuno di questi punti Ecco, quando noi andiamo a creare un elemento Dobbiamo ricordarci di andare a legare quello che è l'elemento a un parent In questo caso, se vogliamo avere una relazione O un child, un related, quello che volete Il concetto è che tra di loro gli elementi vengono creati in maniera totalmente distinta Senza alcun legame Quindi, dobbiamo essere stati diligenti Aver creato le feature che sono figlie di to-do list E a questo punto possiamo utilizzare una query gerarchica Che mostri appunto il contenuto di quest'epica Ma come andiamo ad inserire il risultato di una query all'interno di una wiki? Basta andare in edit E semplicemente Da queste opzioni Aggiungere la voce query result Un pop-up si aprirà Potremo selezionare le query che abbiamo creato Ed infine collegarle alla wiki Andando a salvare la modifica Chiudiamo E in fase di render La query viene eseguita In più viene dato anche un link Sul designer della query Per mostrare come è stata fatta E noterete che questa è una query gerarchica Che punta a un elemento E a tutti gli elementi child Noterete Dicevo nella wiki Che il primo elemento è quello che viene mostrato Il parent E poi successivamente i figli Cioè tutti quelli che sono stati creati Con relazione parent Nei confronti dell'epica to-do list Come vi ho detto Già è buona norma Siccome abbiamo fatto una modifica Alla nostra page Aggiungere un'altra entry Che definisca il cambiamento Per tenere anche una sorta di revisione Non solo di revisione fornita direttamente dalla wiki Ma anche proprio del documento In più possiamo andare anche ad aggiungere Altri commenti Come ad esempio Una nota positiva Ecco A mio avviso questo è un approccio molto potente Ma vi voglio far notare una cosa Che ho creato io manualmente Perché come vi dicevo Gli elementi vengono creati in maniera distinta E nessuno degli elementi si lega direttamente Alla nostra wiki Notate questa voce La voce un work item Cliccando su di essa Noterete che c'è Una epica Legata A questa wiki Come ho fatto a fare questa cosa? Rifacciamola con questa epica Ad esempio All'interno dell'edit Del nostro work item C'è una sezione links In cui possiamo andare ad aggiungere Un link in questo caso existing Di tipo wiki page Andando a selezionare La pagina che vogliamo puntare Viene creato un legame forte Di tipo wiki page E sulla nostra wiki Andando ad aggiornare Noterete che il numero dei work item È cresciuto di uno Ovvero della wiki Dell'epica E scusate che abbiamo collegato Questa Certo Questo non è un approccio Per team non maturi Poiché le wiki Devono rimanere tali E quindi devono essere Snelle Utili E soprattutto manutenute In maniera evolutiva Allo stesso tempo Non devono diventare Analisi complete In stile waterfall Non dobbiamo dimenticare Che stiamo parlando Di agile e di devops I work item Devono continuare a popolare I nostri backlog E ognuno di essi Deve essere Un deliverable Tangibile E funzionante Tuttavia Un supporto documentale E un punto centralizzato Come la wiki Può essere uno strumento Molto potente Come abbiamo potuto notare Una gestione di questo tipo Porta alcuni vantaggi Sicuramente Il primo è quello Di avere un punto centrale Di raccolta Di tutte le informazioni Relative al progetto Discussioni Elementi collegati Materiale esterno Le persone incluse Comprensive anche dei contatti Successivamente La possibilità Di avere un punto fisso Da consultare Senza bisogno Di ricercare elementi Di lavoro Che tra di loro Non sempre Sono legati opportunamente Tramite query Inoltre La wiki Non ha stati di chiusura Per cui le pagine Sono sempre visibili E questo invece Non accade nel backlog Ad esempio In cui elementi chiusi Vengono rimossi Dalle visualizzazioni Infine L'approccio Tende ad avvicinare Chiunque Ad una documentazione Troppo spesso Omessa nei progetti Il che porta anche Consapevolezza Al team Sul cosa stiamo facendo E anche Sullo stato dell'arte Dal punto di vista Della gestione Se quanto ho trattato È stato di vostro interesse Oppure se i contenuti Di queste serie Sono per voi importanti Vi consiglio Di sottoscrivervi Al canale E di attivare La campanellina Degli allarmi Per rimanere sempre aggiornati Grazie a tutti Grazie a tutti per averci seguito Troverete qui sotto In descrizione I miei contatti E alcune importanti risorse Non esitate però A lasciare i vostri commenti Qui sotto A presto Con una nuova pillola Grazie a tutti Ciao